Intro Bentornato Udler, bentornata Oggi parliamo di Windows Defender In pratica inizierai a difenderti Battuta a parte A cosa serve Windows Defender? E' un programma anti-spyware Che si esegue automaticamente se lo attivi All'interno del sistema operativo Protegge il tuo computer da ogni spyware Oppure altro software che potenzialmente è indesiderato Questi programmi possono installarsi durante la navigazione Oppure quando installi dei programmi I software spyware sono in grado di installarsi da soli Senza avvisarti Oppure richiedere magari il tuo consenso Ma soprattutto celarsi per bene Dalla traduzione sono programmi spia Che possono monitorare il tuo comportamento online Quando navichi o raccogliere informazioni su di te Compresi soprattutto i dati sensibili Possono anche modificare le impostazioni del sistema operativo Oppure causare dei rallentamenti Senza che tu apparentemente abbia fatto qualcosa Come accedi naturalmente dal pannello di controllo Individuo il pulsante Windows Defender Se non hai mai utilizzato questo programma Il sistema ti allerterà in quanto disattivato E ti chiederà naturalmente di attivarlo Cliccando su questo pulsante Sul pulsante relativo Quando sarà avviato Nella prima schermata Trovi un suggerimento di controllare eventuali aggiornamento Dell'archivio delle definizioni In pratica le definizioni delle caratteristiche degli spyware Questo potrà impiegare un tempo variabile Terminato ciò potrai eseguire un'analisi Cliccando sul pulsante appunto Avvia analisi In alto trovi lo stesso pulsante Analizza E ancora accanto trovi Un piccolo triangolo Che ti permette di accedere Ad una delle tre possibili analisi Che sono analisi veloce Analisi completa O analisi personalizzata La prima esegue una scansione molto veloce All'interno del pc E può impiegare qualche minuto o decine di minuti Mentre quella completa Esegue la scansione di tutto il computer Può anche impiegare delle ore Infine hai una scansione personalizzata Che ti permetterà di selezionare O delle partizioni O delle cartelle In particolar modo Se vuoi parzializzare la scansione Qualora tu avessi dubbi Che magari si è contaminata Soltanto una parte In alto trovi anche Un altro pulsante Strumenti Che ti permette di visionare Una nuova finestra Al cui interno trovi diversi pulsanti La più importante è Opzioni Che ti permette di personalizzare Le impostazioni del programma Cliccaci sopra E troverai una lista di impostazioni Da poter eseguire Come impostare un'analisi automatica Impostare delle azioni predefinite Del programma Eseguire la protezione in tempo reale Del programma stesso Selezionare delle cartelle O escludere dei file Dalla scansione Scegliere alcuni tipi di file Da escludere dalla scansione Impostazioni avanzate Oppure il pannello di amministratore Nella prima Puoi impostare un'analisi automatica Del pc In determinati giorni orari Troverai dei menu a tendina Che permetteranno di parzializzare Quindi impostare una scansione Specifica In base alle tue esigenze La seconda sezione Ti permette di impostare Le azioni Che il programma deve eseguire Qualora rilevasse Uno spyware In base al livello di pericolosità Ossia scegliere Se rimuovere direttamente Il file O il programma Oppure posizionarlo in quarantena Così potrai Avere l'opportunità Di intervenire Successivamente Qualora tu scegliessi Di posizionarlo in quarantena Con la terza Verranno controllati O meno In tempo reale I programmi Che si eseguono Oppure i file Che verranno scaricati Dal pc Durante la navigazione Con la sezione Cartelle E file esclusi Potrai decidere Di escludere Delle cartelle O dei file specifici Durante la scansione Un'azione Più o meno simile È quella Di poter escludere Una tipologia di file Magari con una determinata Estensione Come possono essere I file mp3 Le immagini I video E così via Questo magari Con lo scopo di Rendere più fluida La scansione Del programma L'opzione avanzate Ti permette Di scegliere Cosa E come analizzare Ad esempio I file compressi La posta elettronica Le unità Periferico usb Oppure Il metodo Di scansione O creazione Anche di punti Di ripristino Tramite dei segni Di spunta Che attuerai O deselezionerai La sezione Di amministrazione Permette Infine Di attivare O disattivare Il programma E gestire Alcuni elementi Della privacy Per l'utente Per ogni utente Del pc Dopo Aver variato Le impostazioni Ricordati Che per l'acquisizione Dovrai cliccare Sul pulsante Salva Dalle pagine Di strumenti Trovi anche Altri pulsanti Come elementi In quarantena Nella quale Potrai rilevare La lista Di tutti gli elementi Che sono stati Posizionati In quarantena Qualora tu Decidessi O avessi Dei dubbi Su come comportarti Ed eventualmente Ripristinarli Oppure rimuoverli Definitivamente Questo in un tempo Successivo Altro pulsante E con la sigla Omonima Quella di andare Ad individuare La lista Degli elementi Consentiti In modo da Aver sotto mano Gli elementi Che tu avrai Esclusa Nella scansione Tralascerei Gli altri pulsanti In quanto Poco rilevanti Dal punto di vista Operativo Del programma stesso Infine Avrai una sezione Definita Cronologia Nella quale Potrai visionare Tutte le azioni Eseguite dal programma Stesso Ma la cronologia Non viene visionata Immediatamente Ma solo Cliccando su questo pulsante Questo perché Per default La visualizzazione Inibita Per garantire Una privacy Bene Eccoci come sempre Nella parte pratica Andiamo ad avviare Il programma Windows Defender Dal pannello di controllo Cliccando sul pulsante Windows Defender Si avvierà Il programma Naturalmente Se non è mai stato Utilizzato Ti ricordo Dovrai Premere il pulsante Attiva Che verrà Presentato dal Sistema operativo Dal programma stesso Successivamente Si presenterà Questa finestra Cliccando Sul pulsante Controlla Aggiornamenti Si avvierà Lo scaricamento Delle definizioni Degli Sparware In quanto Magari Non è molto tempo Che stai utilizzando Questo programma E l'archivio È molto vecchio Quindi Clicchiamo pure Sul pulsante Controllo Aggiornamenti Adesso E attendiamo Un tempo variabile Da qualche secondo A qualche minuto Affinché venga Aggiornato Questo archivio Come puoi vedere In questo caso Il download È impiegato Circa Un minuto E mezzo A questo punto Sei pronto O sei pronta Per avviare L'analisi Del tuo computer Lo potrai fare Semplicemente Cliccando sul pulsante Avvia analisi Oppure su questo Analizza Ma io direi Cliccando sul pulsante Accanto ad analizza Hai l'opportunità Di selezionare Tre possibili modi Di scansione O Un'analisi veloce Che avverrà Una scansione Di una parte Del computer Quella che Maggiormente È più sensibile Alla contaminazione Da questi spyware Quindi cliccando Su avvia Analisi veloce Si avverrà Automaticamente Questa scansione Che potrai Interrompere Ed eventualmente Riprendere Oppure Io direi Potrai eseguire Un'analisi Completa Ma che potrebbe Durare anche Alcune ore Ma secondo me La situazione Migliore È quella di Andare a Personalizzare La scansione Cliccando su Questo pulsante In questa nuova Sezione Cliccando su Pulsante Seleziona Potrai andare Ad individuare Quale parte Del computer Oppure Quale partizione Controllare O ancor meglio Potrai andare Ad individuare Le cartelle Specifiche In modo da Parzializzare La scansione E ridurre Quindi I tempi Ma giusto Come esempio Potremmo anche Avviare Un'analisi Veloce Quindi In questo caso Clicchiamo su Avvia Analisi Oppure Sul pulsante Analizza Il tempo Come detto Varierà Da pochi Minuti A diversi Minuti In base Alla Corposità Della Scansione Che deve Essere Eseguita Come puoi Vedere In questo caso Una scansione Veloce Ha avuto Una durata Di circa Due minuti E Nessun software Indesiderato È stato Rilevato Questo È derivato Anche dal fatto Che questa Versione Del sistema Operativo Che sto Utilizzando A scopo Didattico È totalmente Virtualizzata Quindi è molto Difficile Che venga Contaminata Se non La sessione Che è attiva In questo momento Comunque Questo per Rendere completa L'informazione Altri pulsanti Che puoi trovare In questa sezione È la sezione Strumenti E tramite Il pulsante Opzioni Hai l'opportunità Di eseguire Delle impostazioni Per così dire Granulari Come ad esempio Analizzare automaticamente Il computer Per ogni giorno Oppure in un determinato giorno Scegliere l'ora Della scansione Oppure il tipo di Analisi Da eseguire Se è veloce O completa Altre possibilità Sono di verificare Naturalmente La disponibilità Delle definizioni Aggiornate Prima di eseguire Un'analisi Questa è un'operazione Normalmente da eseguire Ed eseguire Anche L'analisi Del computer Solo quando Il sistema Inattivo Questo per non Togliere risorse Al sistema Operativo Le azioni Predefinite Sono quelle Che possono essere Decise Dal programma In base Alla pericolosità Dell'elemento Trovato E poi Decidere Di impostare Una rimozione Immediata Oppure posizionarla In quarantena Direi che Naturalmente È sempre bene Posizionare In quarantena Per poter Decidere In seguito Cosa Eseguire Eventualmente In alcuni casi Potresti anche Decidere Di consentire Se questo livello Di pericolosità È relativamente Basso Ma Ciò non toglie Che potresti Anche avere La possibilità Di falsi positivi Da questi programmi In questo caso Dovrai cliccare Sul pulsante Applica Queste azioni Consigliate Poi Per cui riguarda La protezione In temporale Naturalmente È sempre bene Tenere attiva Questa opzione In modo da Poter Analizzare I file Scaricati E i programmi Eseguiti Nel computer Durante il normale Utilizzo La sezione Cartelle E file esclusi Ti permetterà Di aggiungere Dei file O delle cartelle Da escludere Dalla scansione Ad esempio In questo caso Stai utilizzando Windows 7 Potresti escludere La sezione Windows 8 Oppure Dove ci sono Archiviati I tuoi dati In modo da Ridurre i tempi Di scansione Un discorso Abbastanza simile Può essere Quello Di selezionare La possibilità Di non analizzare Dei file Con una determinata Estensione Come ad esempio Possono essere I file .mp3 Aggiungendolo Ovviamente Verranno esclusi Dalla scansione Tutti i file In formato .mp3 Oppure Puoi anche Inserire Il formato .jpg Per quel che riguarda Le immagini E così via La sezione Avanzate Ti permette Di selezionare O deselezionare Dei segni Di spunta E migliorare L'eventuale Rilevamento Di malware Opterei Per una selezione Completa E in particolar modo La possibilità Di creare Un punto Di ripristino Del sistema Prima di applicare Le azioni Predefinite In modo che Se dovesse Verificarsi Qualche problema Puoi sempre Tornare indietro Infine La sezione Amministratore Ti permette Di attivare O disattivare Il programma Deselezionando Selezionando Questo pulsante Naturalmente In questo caso Cliccando su Salva Avrai Il programma Disattivato Questa è la schermata Che avrai All'inizio Se non hai mai Utilizzato Il programma In questione Cliccando sul pulsante Fare click Qui per attivarlo Sarà Sufficiente Per avviare Il programma Windows Defender Alla sua piena Funzionalità Infatti Tornando su Opzioni Trovi il segno Spunta Usa il programma Selezionato Qui potrai anche Decidere Di far visionare Alcuni parametri Delle operazioni Eseguite da questo programma Che normalmente Sono Deselezionate Di default Ricorda come sempre Dopo aver selezionato Queste opzioni Di cliccare Sul pulsante Sarva Per fare acquisire Tutte le impostazioni Che hai eseguito Altri pulsanti In questa zona Diciamo Quelli particolarmente Interessanti Sono Gli elementi In quarantena Qui dopo una scansione Potrai visionare Gli elementi Che sono posti In quarantena E decidere Se rimuoverli tutto O rimuoverli Quelli che selezionerai Oppure Ripristinarli Qualora Sia un falso Positivo Altra sezione Importante Potrebbe essere Gli elementi Consentiti Ossia Tutti gli elementi Che avrai deciso Di consentire Durante il normale Funzionamento Ed evitare Di monitorarli Durante L'esecuzione Del programma Stesso Ultima sezione Di particolare importanza Potrebbe essere La cronologia Che ti permette Di far visionare Tutte le azioni Intraprese Dal programma Durante il suo Normale Funzionamento Se non hai Visionata Nessuna Operazione Potrà essere Visionabile Cliccando sul pulsante In questo caso Non presente Visualizza Cronologia Questo sempre Che tu abbia Attivato La visualizzazione Della cronologia In questa sezione E in questo caso Come puoi vedere Il pulsante Che precedentemente Era di cancellazione Adesso è di visualizzazione Dovrai cliccare Sul pulsante Per poter vedere Come detto Le azioni Intraprese Da questo programma Qualora avessi Qualche dubbio Sulla funzionalità Potrai sempre Controllare Leggere Ed informarti Dalla guida In linea Fornita Dalla Microsoft Bene Ci leggiamo Come sempre Nella prossima lezione Per nuove informazioni Ora un forte saluto Ciao a presto Da Carlo E dalla prossima Buongiorno a tutti E da prossima